La quattordicesima pubblicazione, curata dal gruppo Butto Cultura, si è concentrato sulla storia e le tradizioni di San Pietro Vara. È la storia della parrocchia e soprattutto della comunità. Noi nei nostri libri cerchiamo sempre di porre in risalto tutti i valori che emergono dalla civiltà dei nostri antenati, quindi l'amore per la famiglia, la solidarietà, il rispetto verso gli altri, la grande fede, la grande generosità verso la Chiesa. Attingendo principalmente agli archivi parrocchiali, gli autori del volume, Sergio Gabrovec e Edo Callori, hanno ricostruito e documentato 458 storie piccole e grandi. Come grande storia noi abbiamo il 15 giugno del 1748 la stipula di un'armistizia avvenuta qui nel paese tra le truppe austriache e quelle franco-spagnole-genovesi, nell'ambito della più nota guerra di successione austriaca. I proventi del libro saranno destinati alla parrocchia che custodisce al suo interno un pregiato patrimonio artistico. Quello che abbiamo nella nostra copertina è il trittico di Luca Cambiaso della seconda parte del Cinquecento. che ritrae San Pietro insieme a San Paolo e San Giovanni Battista. Mentre nel retto della copertina noi troviamo un altro quadro, questa volta del Settecento di Anonimo, che rappresenta, è molto interessante perché oltre a rappresentare la Madonna, ai piedi c'è una veduta proprio del paese di San Pietrovara.